Sono ancora in corso le operazioni per domare l'incendio che ha scoppiato in via Ginna Marcelli a Sansepolcro nella zona industriale Trieste. Nel primo pomeriggio di quest'oggi, intorno alle 14, le fiamme hanno avvolto la parte centrale dell'ampio capannone usato come deposito dalla Donati Legnami, nota azienda Valtiberina. Ricoverato presso l'ospedale di Sansepolcro, il titolare, che pare sia stato colto da malore, appena si è trovato davanti il drammatico spettacolo. Inoltre, poco dopo, anche uno dei figli è stato soccorso dall'ambulanza, in quanto sopraffatto dai fumi dell'incendio, nel tentativo di svuotare il più possibile il deposito dai materiali non ancora raggiunti dalle fiamme, insieme a molti dei dipendenti dell'azienda, per limitare l'estendersi dell'incendio. Segnalato un ulteriore intervento del 118 per soccorrere un'altra persona intossicata dai fumi. Sotto l'effetto dell'alta temperatura è anche crollata parte della copertura del fabbricato. Il timore adesso è che crolli anche il carroponte, che renderebbe ancora più drammatica la situazione. Per questo i vigili stanno ancora tentando di raffreddare la struttura per evitare il cedimento. Le fiamme adesso sembrano essere state circoscritte e pare scongiurato il timore che queste possano raggiungere anche il capannone vicino, dove sono stivate grandi quantità di legname, sempre dell'azienda Donati Legnami. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sansepolcro, di Arezzo e Città di Castello, oltre che i carabinieri di Sansepolcro, polizia, protezione civile e corpo forestale. Ricordiamo che nel luglio del 2008 anche un altro deposito della stessa azienda, situato sempre a Sansepolcro ma nella frazione di Santa Fiora, fu distrutto da un incendio.